Notizia rilasciata ufficialmente il 26 settembre del 2021. Durante l'estate Richard Mavor si trovava sulle rive del lago di Loch Ness utilizzando il drone per filmare alcune sequenze del suo viaggio senza poi rendersene conto in un primo momento che avrebbe catturato in video una strana figura intenta notare proprio sulle rive. Più lo guardavo più ci credevo non c'era davvero nient'altro nella zona non poteva che essere lui. Richard ha poi caricato le immagini sul suo canale youtube ricevendo innumerevoli commenti in riferimento alla creatura tutti erano convinti che si trattasse del famoso mostro di Loch Ness. Osservando bene il girato si può ben vedere la figura della creatura ma come ben sappiamo non è da escludere che possa trattarsi di un fake ben realizzato anche in questo caso. Non è anche da escludere il fatto che possa trattarsi di un gioco di luci ben riuscito riflesse sulle onde. E voi che cosa ne pensate? Credete che l'avvistamento sia reale oppure sentite anche voi odore di imbroglio? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Grazie.